È diventato paunazzo in volto, si è portato la mano al petto e poi si è accasciato. È stato colto da un malore Mirko Alessandrini, il marito di Guerrina Piscaglia, mentre era sottoposto al contresame da parte della difesa di Gratienna Labi. L'udienza del processo in corte d'assise a padre Graziano, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, è stata così sospesa intorno alle 10.45, un'ora dopo il suo avvio. È stato chiamato il 118, Mirko è stato caricato in barella e soccorso all'interno dell'ambulanza nel piazzale della Vela. Un risponso fortunatamente positivo per l'uomo, si è trattato infatti solamente di pressione alta. Come persona umana, anche come mio amico, vederlo in una situazione così mi ha fatto molto male, perché anche c'è il processo ma rimane sempre mio amico, secondo me. L'udienza è così proseguita, posticipando il contresame di Mirko nel pomeriggio, con l'audizione di Nunzia, un'amica di Gratien, conosciuta nel 2011 a Perugia, dove il frate prestava servizio. La donna ha parlato del rapporto di profonda fiducia instaurato con il frate, che considerava un riferimento spirituale, incrinato però dopo una telefonata di un'altra parrocchiana che le disse di stare attenta a quell'uomo che era immischiato in traffici loschi, presumibilmente riferendosi ai diamanti, e che aveva avuto dei rapporti con una ragazza tossicodipendente. La testimone così avrebbe cercato nel settembre 2014 di avere delle spiegazioni proprio dal congolese, anche in riferimento alla scomparsa di Guerrina Piscaia. Padre Graziano mi disse che la signora Guerrina si recò da lui, il giorno prima o due giorni prima, non ricordo con precisione, chiedendogli aiuto nell'organizzare la fuga con suo figlio Lorenzo e con un uomo. Alla mia domanda diretta, padre, lei conosce l'uomo in questione? Lui mi disse, no, non lo so, so solo che aveva una relazione con un carabiniere di Foligno. È stata poi la volta di Monsignor Dallare, il vicario generale della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, che ha parlato delle problematiche riscontrate nella conduzione della parrocchia, descrivendo le metodologie liturgiche di Gratien come creative e fantasiose, ma certo poco monastiche. Il Monsignore, su domanda specifica del Presidente della Corte, ha chiarito che lui si riferiva alla comunità dei frati. E non è assolutamente vero, perché noi dimostreremo con documenti che produrremo nelle prossime udienze che il trasferimento era già stato disposto, ma non dall'autorità superiore invocata dall'Ara, ma in seguito alla richiesta effettuata direttamente da padre Graziano. Il nodo da sciogliere era indubbiamente però quello riferito a zio Francesco, l'uomo con cui, secondo il frate, sarebbe scappata guerrina. Un personaggio è descritto dallo stesso Gratien secondo quanto riportato dal vicario Dall'Ara in un incontro del 13 settembre 2014, come un uomo dalla carnagione chiara e dall'accento non toscano. Il vicario ha poi giustificato la sua richiesta di silenzio fatta alla parrocchiana che ricevette un SMS da guerrina il 10 maggio. Monsignor Dall'Ara in aula ha detto di non aver voluto alimentare il pettegolezzo. Secondo me quella è stata un'opportunità persa perché era un messaggio ricevuto il 10 di maggio, quindi nove giorni dopo la scomparsa. È chiaro che probabilmente se i carabinieri fossero stati allertati qualcosa in più usciva, invece purtroppo il consiglio che è stato dato non era quello che doveva essere dato.